Musica 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 Eccoci qua, ho detto il power del convento di un attimo domenica sera con loro, ciao ragazzi, ci siamo tutti e tutti spontaneamente mi siete presentati, siamo tutti nuovi, lei è esperta delle canzoni, ricordiamo Marghera, Teresa, abbiamo Angelo, 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 Angelo dei ricchi e poveri, più povero che ricco, la versione povera, ricordiamo che in regia c'è una ragazza che ha spopolato il domenica scorsa nel caravaggio, è passata la vecina, poi abbiamo lui il ballerino, Paul, ecco qui il nostro Pausto, è molto tarantolato tra l'altro, è molto tarantolato, sarà la presenza femminile, sicuramente sì, perché quando siamo io non so il professore, aspetta che c'è Serenella vuol dire una cosa, tanto le albe, poi abbiamo la nostra pima, ha bevuto lei stasera, abbiamo la pima, che non vuole dire il nome, abbiamo la pima che ha pieni polmoni, entrati, sono arrivato e ho spaccato la maglietta, non gli mancano i tuoi moni, aspetta che Serenella vuol dire una cosa, lei si appaggia sempre, mi piace l'altra volta, mi piace l'altra, mi piace l'altra, mi piace l'altra, poi ragazzi, abbiamo qua dietro due provatelle, abbiamo due provatelle, abbiamo due provatelle, un abbasso alle provatelle, eccole qua, abbiamo le piccolele smarrite, abbiamo tutto stasera, siamo tutti smarrite qua, siamo tutti smarrite qua, perfetto, allora riprendiamoci che un giorno insieme riusciremo a venire le foglie, ok, le piccolele si stanno consultando, hanno detto che cosa ci facciamo noi qua, che ci hanno trascinato con la forza, voi ballate, voi ballate, voi ballate, voi ballate, si, si va bene, noi siamo anche dei vittime, è tornata la voce, non è passato, ma che povera, non fa niente, è, con lì, è, con il Fausto, bravissimo, fausto si azionato, perché che cantiamo? è appunto, c'è un microfono sublettivo, vuol far provare a capire, ma ecco, va bene, dai, partiamo ragazzi, partiamo, ci siamo, è un giorno insieme, è un'idea di Fausto, non dire niente, tra un minuto il giorno nascerà, e l'uomo che io ero, morirà, amica mia, questa casa non è casa mia, con il primo vento caldo, mi ne andrò, cielo grande, cielo blu, quanto spazio c'è lassù, cammino solo e non ti sento più, cielo grande, cielo blu, a mio fianco c'è il tu, e il giorno che nasce cancella l'insegno di te, un giorno insieme, a lanciare sul fiume i sassi e poi, capire cosa siamo in fondo, amica mia, so che forse tu non capirai, ma un uomo no, non è contento mai, cielo grande, cielo blu, quanto spazio c'è lassù, cammino solo e non ti sento più, cielo grande, cielo blu, quanto spazio c'è lassù, cammino solo e non ti sento più, cielo grande, cielo blu, quanto spazio c'è lassù, cammino solo e non ti sento più, cielo grande, cielo blu, quanto spazio c'è lassù, cammino solo e non ti sento più, cielo blu, quanto spazio c'è lassù, bravo, bravo, se lo merita tutto, aspetta un attimo se nello, perché su posti d'ali devo dire una cosa, ragazzi quando rivedrete il video sul sito del commento, o commento.it, vedrete, 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 una cosa, ecco, c'è da dire che Fausto, il nostro Fausto, ha mandato dei messaggi subliminali in questa canzone, perché si azionava solo sul ritornello, sul ritornello diventava tutto fisico, e come fa il ritornello, dite lo togli assieme, fatemi il ritornello, fatemi il ritornello, amica mia, bravo, 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 ok, su le mani, ok, Siamo state grandi!